L'incendio nell'aggregato di Sant'Emilio, che comprende anche la cattedrale del Duomo, riaccende i fari sulla vicenda della mancata ricostruzione della chiesa, ancora al palo dal 2009, con danni ingenti e con il tetto dell'abside ancora scoperto. Come ormai noto c'è un progetto esecutivo di riparazione, consolidamento, miglioramento sismico e restauro, commissionato dalla Curia per 35 milioni di euro. Il progetto è precedente al 2015, ma le competenze, come si ricorderà, poi sono passate al Ministero. Il progetto approvato dalla sovrintendenza per il primo lotto sono stati stanziati 13 milioni di euro netti, con la priorità di sistemare almeno la copertura. Il segretario regionale dei beni culturali, Nicola Macri, ha fidato l'incarico di verifica preventiva del progetto del primo lotto. L'obiettivo è far partire la gara entro l'anno, ma la procedura è molto complessa. Ad ogni modo si sta per concludere la verifica preventiva del progetto, come chiesto da Macri. Ci tengo a precisare che ciò che è accaduto purtroppo è un danno al bene culturale, però non è un intervento attuato dall'amministrazione del Ministero della Cultura, è un intervento del Consorzio. Per quanto riguarda le procedure amministrative e tecniche per l'attuazione di intervento sul Duomo, abbiamo in fase di conclusione la verifica preliminare della progettazione, che è stata, come è noto, predisposta dal Consorzio, dalla diocesi, e quindi noi, così come da normativa vigente, dobbiamo concludere, avere il rapporto conclusivo di questa verifica, per poter poi acquisire il progetto e procedere con gli atti di avvio della gara. La questione quindi appare ancora lunga. Nel 2022 in città per la perdonanza potrebbe arrivare Papa Francesco, invitato dal Cardinale Petrocchi, e il Pontefice potrebbe visitare anche la Cattedrale, con la speranza che per allora qualche passo in avanti sia stato fatto. L'architetto Ciciotti conferma però che il loro impegno è massimo per far partire i lavori di quest'opera che la cittadinanza attende da anni. Fare però oggi un cronoprogramma appare abbastanza azzardato. Tra l'altro già sono state chieste delle risorse aggiuntive. Il segretario regionale, il dottor Magri, ha richiesto a continue interlocuzioni con gli organi del nostro Ministero e c'è stata una formale richiesta anche di ulteriori risorse. Quindi siamo assolutamente impegnati quotidianamente nel risolvere le problematiche di tutto il patrimonio culturale di questo territorio, ma in particolar modo per la nostra Cattedrale. Grazie a tutti.